Pino mi dice che sia a posto. A me mi serve uno che fa quello che gli dico senza nemmeno fiatare. A me basta che mi fate vedere a chi devo sparare. Su il gioiellino mi è arrivato da poco. Se l'ho toccato vedete la scossa. Questa dà la carica meglio del pochi e coffe. Stupiscotte due? E me ne poto. Ci sto insegnando mai il serio. Come ti chiami? Pino si chiama. È bravo, è preparato. È andato pure a scuola. C'è i piedi fini come quello di un ballerino. Infatti lo chiamiamo Scarpuzzerra. Sant'è qua, ho che coffe. Con me voglio gente che lavora senza fare ciò per chiacchiere. Se ti dico vai qui dall'amico tuo, Pino, e ammazzalo. Tu che fai? Ammazzo.